Pregno per la cultura, Harold Acton, pristella artistica, dono del mondo dei passi di Siena. A Harold Acton, Baronetto in Inghilterra, cittadino onorario a Firenze, ma sempre e ovunque amante riamato della bellezza. Di tutti i tempi e in ogni sua espressione. Applausi. 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 Mi scusate. Onorevole, signore e signori, mi sento grato per questo premio che non avrei mai immaginato. Ecco, nella mia bambulezza ero spesso premiato a scuola e adesso, 8 gennaio, mi sento ma sempre studente. Queste premiazioni mi fanno sentire giovane e con gli anni che pesano le apprezzo molto di più. Aveva proprio ragione, Edoardo di Filippo, caro amico, quando diceva che gli esami non finiscono mai. Essendo un'iniziativa fiorentina, creata dal compianto Bargellini, sindaco dell'alluvione, mi dà una gioia particolare. E nuovamente dico a tutti grazie di cuore. Grazie.